Amici di Android Blog, stiamo girando questo video con la camera di Wiko Highway andiamo subito a provare a spostarci velocemente verso sinistra e a tentare un controluce anche se di luce non ce n'è molto, come potete vedere dal cielo proviamo l'adattamento alla luce bene, adesso ci spostiamo velocemente verso destra e come di consueto proviamo a camminare verso il nostro vaso di fiori ci avviciniamo per tentare una ripresa macro aspettiamo la messa a fuoco, sembra molto veloce e poi spostiamoci verso un fuoco più lontano ora ci ritiriamo su e proviamo ancora un panoramica verso sinistra e verso destra velocemente proviamo lo zoom, zoom presente anche a questa risoluzione fino a 4x come potete vedere per un video girato in full HD 1080p da Wiko Highway